Stasera alle ore 20 e 30, allo stadio Nicola De Simone, andrà in scena l'attesissimo derby tra Siracusa e Catania, ma Tq valevole per la nona giornata del girone C di serie ci sfida ad alta quota, tra due compagini che stanno vivendo un ottimo momento di forma. Le due formazioni siciliane, infatti, occupano due dei primi quattro posti in classifica, rispettivamente il quarto ed il secondo, ed hanno intenzione di fare rumore in questo lungo campionato.